Io mai, mai avrei pensato di conquistare qui con il mio socio una prima serata su Canale 5, siamo emozionati. Poi ci siamo detti, se ce l'ha fatta Enrico Papi ce la possono fare veramente tutti, è testata come una molla per noi. È bene, è bene, è bene, è bene. Ma l'ha fatto finita! Basta! Enrico Papi! Basta! Che fai qua? Che fai qua? No, dovete fare, è finita! Eccolo il pubblico! Adesso poi ci crede, ragazzi ci crede, poi è un casino. Enrico, chi ti ha fatto entrare? Allora, io sono entrato, perché mi sono vestito come voi, sono entrato così, parlavo un po' barese anch'io. Fondamente c'è che c'è una camioneta di Foggia, vedi che nemmeno qua. Non mi sto sbagliando! Io ti volevo ringraziare, visto che stai qua, perché grazie a gente come te, che quelli come noi svettano. Dai, 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 dai! Enrico, ti posso chiedere una cosa? Cosa? Perché tu lo fai benissimo. Così cominciamo anche perché abbiamo un sacco di ospiti. Non ci dire niente che abbiamo gli ospiti che dobbiamo cominciare il programma. Non mi lanci il balletto che parte come... Fa un bello lancio, c'è il corpo in ballo. Vai Enrico! Dai, che cominciamo! Come lo fai? Allora, è la tua opportunità! È la tua opportunità! Ok, vai, ok, vai! Pronti? Moseca! Allora! 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 Grazie a tutti.